Tempio Voltiano da domani torna l'accesso senza prenotazioni in ritorno alle visite regolari nel mausoleo dedicato ad Alessandro Volta senza più bisogno della prenotazione anticipata era stato annunciato nei giorni scorsi dall'assessore alla cultura di Palazzo Cernezzi Enrico Colombo. Via Libera dunque alle visite di turisti e cittadini tutti i giorni dalle 10 alle 18. L'ingresso sarà sempre garantito da martedì a domenica. Le restrizioni agli accessi al Tempio sono scattate nello scorso mese di novembre a causa del malfunzionamento dell'impianto termico dell'edificio coinciso inoltre con il calo drastico delle temperature che aveva dunque portato l'amministrazione comunale ad intraprendere nuove misure di accesso al masoleo dedicato a Volta. Per visitare il Tempio era dunque necessaria la prenotazione obbligatoria entro le 48 ore precedenti la visita recandosi all'infopoint del Broletto inviando una mail all'ufficio competente. Ora invece grazie all'arrivo della primavera con le temperature più miti le porte del Tempio Voltiano tornano aperte senza necessità di prenotare l'ingresso. Per visitare il Tempio è necessario acquistare il biglietto da martedì a domenica dalle 10 alle 18 con l'ultimo ingresso fissato alle 17.30. Il Tempio Voltiano resterà chiuso nei giorni festivi quindi anche lunedì 1 maggio.